Procedono serrate le indagini per l'omicidio di Mario Renzulli, un 38enne di Manfredonia, ucciso ieri sera dopo essere stato ferito con una coltellata al capo nelle campagne del comune Sipontino, in località Macchiarotondo. Al momento non c'è chiarezza sulla dinamica del delitto, che presenta ancora molte ombre e che secondo indiscrezioni vedrebbe coinvolto un minorenne non imputabile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, il procuratore di Foggia, Lodovico Vaccaro, ha solo confermato che si tratta di un caso molto delicato che vede coinvolta, oltre alla procura ordinaria, anche la procura minorile. Pare, secondo fonti investigative, che l'omicidio sia maturato in ambito familiare. La vittima, dopo essere stata ferita, ha chiamato il padre che lo ha accompagnato all'ospedale di Foggia, dove è deceduta poco dopo a causa della profonda ferita. I militari hanno ascoltato il parente del 38enne ed altri congiunti per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.